we bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video xyuder se fa 10 kill la giuro le dono 5.000 beats e la madonna frisa 10 kill 5 mila di te non sono pochi signor master ci provo ci provo ci provo andiamo tipo scogliarazzi a se cosa dice andiamo no vabbè sarà connor con la moto è veramente meravigliosa non sembra che è sceso nessuno secondo me è pulito se uno andiamo sul tetto tutti e due quindi scenda subito guardi se li vede eccolo quello che si muove a terra andiamo ok siamo in due di uno così eccolo qua l'altro 105 porto buttiamo tutto separiamoci di quale va di là e si andiamo ragazzi le mani calde ragole mani caldo il manicati finisce di luttare qua che poi ci spostiamo l'allentrata dovrebbe esserci in attima di ok ma si sono fatti barilozzi porca miseria porca chiamo ragazzi e non lo so ragazzo stavo pensando me lo faccio portando cildini ciascini a tre venga i miei tre anzino cildone a me che l'ho porto e uno c'è ne ho già due andiamo sì sì salda ok andiamo macchina qua vai 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 no perché mi scendi ormai vado a prendere questo tanto la finisce prima lui la benzina ok torno a prenderti andiamo 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 a prenderli andiamo a prenderli la lama dietro prendiamo sto lama posso aprirlo andiamo al colosseo vada vada sono qua eh hanno appena finito il fight porto easy si può fare signori si può fare ancora una no no le ho trovate via tutte ok ci spostiamo prendiamo la 6 vediamo di chiudere questa partita piano e faccia l'acqua sono troppo contento che è tornato davanti a noi gente lo busciamo questo è eh sì sì ci ecco al 101 con il mandaloriano ah モンワール ça secondo me che ci sparano dal colosseo che tengo io sì ma niente di preoccupa fatto un altro box da sotto da sotto attenzione si è sceso si è uno che entra da me 72 arrivo siamo 2 v 1 fermo ma non muoverti non muoverti non muoverti non sei sopra sei sopra non muoverti easy easy a questi abbiamo distrutti andiamo sotto ce ne andiamo asciugamani legato raid aia asciugamani lascio con le varie sono le mani un momento ovviamente dobbiamo dobbiamo vincere lo fare 10 kg e vincere ne ho fatte 6 perfetto guardi che non è assolutamente difficile assolutamente impossibile ok manca l'ultimo io salirei qua per dare un'occhiata abbiamo anche il cecchino è anche bene si può fare ragazzi che andiamo busciare tenga le do io la legna venga aspetta dobbiamo assoluto no siamo in set ce la faremo mai a fare gli altri kill dovrebbe riuscire a lasciarmi lì se non le dispiace siamo in 6 ma vediamo la macchina eccomi 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 vai verso parco sicuro ci deve essere gente verso barco se ne muore anche solo uno niente io non ci credo che non c'è gente dai raga ma dove che sono però il nostro volo io per attirare l'attenzione come dicono i ragazzi sono camperati a parco dobbiamo facciano dei piramidi tipo tecnica egitto e oggi oggi che siamo separati e matt ok sento sparare di qua vieni 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 eccoli sono fai tanto arrivo vai 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 non ti preoccupare di me faccia cadere faccia cadere fermo non fa ricadere tu non fa ricadere tu c'è uno la sotto una kill presa due kill prese tre kill prese eccolo 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 no 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 vieni pusha con me pusha con me non te lo fare per favore eccolo eccolo ce l'ho chiuso ce l'ho chiuso apri apri è uscito per favore non fartelo qua dentro e sakura perché balla provate a mandarlo su e faccia cadere è giù prende il p90 prende il p90 perché balla fermo eccolo eccolo 20 shield grande quante kill? 10 10 let's go 3 partite su 3 abbiamo fatto tutte e 3 vittorie dai Oh yeah!